Vado invece a toccare il tema del caffè nero bollente di oggi, che fortunatamente non è più zaniolo che se n'è andato, e dal mio punto di vista senza nessun tipo di rimpianto, quanto invece la necessità velocemente di costruire un certo campo di valore assoluto. E ti dico la verità, caro Dario, che i nomi che vedo abbinati alla Fiorentina, compreso l'ultimo, quello del romanista Bove, io credo che Bianco potrebbe diventare forte come se non più di Bove, se avrà il tempo di materare le sue esperienze, sono tutte figure anche di buon livello, ma non adeguate a quello che serve alla Fiorentina. La Fiorentina serve un grande leader, un uomo di grande personalità, un giocatore fatto, uno che ci aiuti il gruppo a vivere anche nel modo migliore le finali, ad esempio, quindi aspettando un torreira, caro Daniele Pradè, di questo scouting che leggiamo, ho letto fino a oggi, dico la verità, nessuno mi ha passione.